Ora di pranzo raga, oggi mi sto facendo, vi faccio vedere Yudon Però forse ho messo un po' troppe verdure, ve lo faccio vedere Ecco qua raga, misto pesce, carote, zucchine, cipolle Ho messo un po' di spezie, il curry, la paprika, l'aglio, queste cose qua Vi faccio vedere il mio outfit raga di oggi Come vengono secondo te? Dopo metto un po' di salto di soia Vengono buoni? Sono un po' troppe verdure, sono più verdure raga che Però beh, meglio, fanno bene E vabbè, questi penso già sono cotti, li metterò qui dentro Li scolerò qui dentro e via Questo qui è il mio pranzo C'ho fame Sì perché lo sapete che comunque sto aspettando andare al sushi Quindi mangerò questo e speriamo che verrà buono Raga ma quanto è bella la mia cucinina Quanto è bella Ok raga, questi sembrano pronti Ecco qui raga l'impiattamento Che ne pensi King? E' bello Sono detto buoni Come ristorante? Non penso Raga, assaggiamo Il ristorante, l'aria è il ristorante Come? Buone? Buone Non come il ristorante ma raga sono buone Dai ci sta Mi piace Buon appetito E buona domenica Buono Guarda che buone Buon appetito Buon appetito Buon appetito Grazie a tutti.